Probabilmente in questo periodo gli riescono meglio le commedie piuttosto che non i film legati sui temi forti, classici, così a Ken Loach dopo il mezzo passo falso con Ruttiste sulla guerra in Iraq presentato proprio qui a Cannes qualche anno fa, invece torna con un bel film, The Angel's Share, La parte degli angeli, certo il Coté è sempre lo stesso, ci sono sottoproletari, ci sono i marginati, ci sono ragazzi che cercano il riscatto, ma tutto all'interno di una commedia scansionata e leggera che ruota attorno ad una botte di whisky pregiatissimo e quello alla fine della proiezione per la stampa, per gli addetti ai lavori è stato certamente l'applauso più convincente che ho sentito, non vincerà niente in questo festival, ma almeno ci siamo divertiti.